Sicuramente, come ho cercato di dire, il fatto che la collaborazione molto forte tra tutti i livelli istituzionali è fondamentale per affrontare una fase così incerta e con variazioni così importanti dei costi e con una tensione anche molto forte sia sui mercati in generale ma naturalmente nei confronti dei consumatori. L'autorità credo in questi anni, in questo anno in particolare così complicato, ha dimostrato di essere quel leale collaboratore istituzionale che è un po' rivendicato fin dall'inizio di questo mandato ma naturalmente adesso l'autunno è una fase molto complicata e quindi ancora di più bisogna prestare attenzione a fare interventi che siano efficaci, immediatamente efficaci.